Il Salento, la nostra bellissima terra tra due mari, non è solo l'usule, l'umare e l'uiento, né tantomeno è solo una divertentissima meta turistica per migliaia di giovani provenienti da tutta Europa per fare baldoria, nelle nostre caldi notti di agosto. Il Salento è anche e soprattutto una terra di ricerca, di studio, con un'importante eccellenza nell'ambito della formazione universitaria. L'Unisalento di Lecce, da giurisprudenza, economia, passando per ingegneria, lettere, filosofia, eccetera. L'Unisalento è in assoluto, con i suoi circa 17.000 iscritti, una delle più importanti università italiane. E qui si studia tanto, tantissimo. Riguardo a questo periodo dell'anno, poi che dire, i mesi che vanno da adesso fino a luglio sono terribili per uno studente. Un climax di stress, studio, esami, ventilatori a palla, tazzine di caffè abbandonate sulle scrivanie strabordanti di libri, sognando le agognate vacanze e stile. E allora ragazzi, prima di immergersi in questo periodo di studio ad oltranza, serve un evento che possa darci la carica. Allora sì ragazzi, ci vuole proprio un party universitario, una festa che agglomeri gli studenti di tutte le facoltà, per una notte di sano divertimento. Un party spettacoloso, che si darà il 29 aprile al grande autentiziano, il party dell'Unisalento. Ma conosciamo meglio alcuni degli studenti da noi selezionati per rappresentare le varie facoltà. Cerchiamo di conoscerli attraverso una breve intervista e di capire se sono degli ineccepibili studenti universitari, se sono simpatici, lesionati e se sono degni di essere protagonisti di un video del party Zoo Salento. E soprattutto se sono meritevoli di essere invitati al ballo di fine anno dell'Unisalento. Conosciamogli meglio Nome Riccardo Jacopo Pasquale Marco Giovanni Davide Giulio Andrea Francesco Facoltà Scienze politiche Sociologia Scienze e tecnologie per l'ambiente Economia Sociologia Giurisprudenza Economia Giurisprudenza Ingegneria Esami dati Esami dati abbastanza 13 Tutti, stranamente Numero mi ricordo di preciso, però abbastanza Zero 16 16 Una giornale e quasi una magistrale Tutti gli esami possibili tranne una procedura finale e poi mi laureo A luglio non mi vedete più 14 Voto più alto preso 30 30 e lode 28 30 30 30 Raccontaci cosa fai prima di un esame Studio fino a tardi, faccio due chiacchiere con i miei fratelli, vedo un film E poi ripeto nel letto Studio, poi andiamo a fare qualche serata con il mio amico Riccardo Mercurio e poi andiamo a fare l'esame Prima di un esame? Prima di un esame si studia genericamente e poi bisogna fare i giusti atti scaramatici Tipo la preghiera, tenere le scarpe dritte, non così, perché insomma le varie cose che in generale si fanno Ma che cazzo stai dicendo? Beh solitamente studio e faccio qualche preghierina, tipo ascoltaci o professore No Maria io esco Studio, guardo serie tv e prego Studio, studio principalmente però comunque qualche dita scaramatico si fa sempre Qualche preghiera, qualcosa Penso a quanto tempo per studiare Prima di un esame, che sono quasi sempre la mattina, ascolto sempre la stessa musica E mi vesto quasi sempre alla stessa maniera e vado, è una cosa scaramante La cortesia cerca di non guffare continuamente, se no ti faccio rimanere l'oculo tutta la pagina tutta la vita Vado in bagno prima di tutto per scaricare l'attenzione Abbiamo una lista di imprecazioni contro il professore Quindi diamo a sfogo il nostro nervosismo in questo modo Come festeggi dopo un esame superato? Solitamente con gli amici Beh solitamente con gli amici o con la ragazza Se lo passo, festeggio con gli amici, si esce, si beve qualcosa Se non lo passo, lo faccio lo stesso Sicuramente a bere con gli amici, una birretta ci sta sempre Per adesso non ho ancora avuto questa soddisfazione Berrò Eh, si va al bar e si offre agli amici Poi la sera si torna in paese e si offre un'altra volta agli amici Un sacco di soldi insomma Dopo un esame torno a casa, organizzo la partita di calcetto e basta Come direbbe Mille Lire, nella vostra facoltà si pecora? Si? Si pecora? Abbastanza Anche se io non ho avuto il piacere di questa godunia di questa facoltà così pecorosa Nella mia facoltà si pecora ma non, avendo una ragazza non ho questa possibilità di Sentino disastro Ma, si, dai Si, però la ragazza Fortissimo, è giurisprudenza comunque Si, tanto Lui becora in entrambe Comunque con l'economia diciamo di si A giurisprudenza si becora molto Bisogna selezionare bene però c'è della materia prima interessante Si, io conosco un mio amico che becora sempre Se lo posso citare Tore Tizzi Tore Tizzi becora sempre Ingegneria è il, diciamo, il mille lire Cosa vuoi fare da grande? Professionista in carriera che ha un buon stipendio Il ricco Tanti soldi da sperperare Da grande vuole fare il mantenuto Andrò in Svizzera a cercare una battona di 70 anni per sposarmela Georogo Commercialista Vorrei intraprendere qualcosa nell'ambito del turismo, nel settore terziario Soprattutto qui in Sarento L'avvocato Da grande vorrei fare l'ingegnere, civile Ma vorrei anche, diciamo, operare nell'ambito del turismo Il professore Pure io Professore Cosa ha di speciale l'Unisalento? Unisalento è speciale perché è unita Diciamo anche tra le associazioni politiche Resta una grandissima cazzata Unisalento di speciale ha il calore, la coesione sociale e la simpatia di tutti Unisalento ha di speciale Radio Wow A parte questo c'ha anche un casino di gente davvero molto solare È molto simpatica Ci si trova bene in Unisalento È come se fosse una casa È già il fatto che si trova nel Salento La dice l'è lunga Ma che cazzo stai a dire? Il calore La vigilanza con i compagni La migrizia Ti senti a casa praticamente È un'ottima università veramente È una delle università del sud migliori È un piacere essere qui Il clima aiuta La didattica è ottima Unisalento per me è casa, famiglia Un luogo in cui stare insieme e conoscere nuove persone Risponda come lui, mi è piaciuto Che non funziona niente I tuoi genitori sono contenti del tuo percorso universitario e della scelta della tua facoltà? Sono contenti della scelta della facoltà Sicuramente vorrebbero una situazione un po' più veloce però Comunque, prima o poi ci arriveremo Sì, credo di sì Penso di sì Sì Spero di sì Sì, abbastanza Direi proprio di sì Molto, sì Sono soddisfatti Sì, sì, sono molto contenti Mettiamogli alla prova Facciamogli uno scherzo Certo Vabbè 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 Ehi mamma Sono Riccardo tuo figlio Ascolta Ascolta, ma praticamente Tempo fa Tipo un mese fa Ho fatto una festa, no? Che si chiamava Merda Prof Merda Prof I professori Mi hanno scoperto E si sono un po' incazzati In questo momento Mi hanno annullato tutti gli esami Ma tu sei scema Tu sei scema Eh Che allora E vabbè Comunque in questo momento È stata una bella festa Ci siamo divertiti Che stai facendo? Dobbiamo fare causa secondo me mamma Me lo mandi? Vabbè Mi mandi l'avvocato? Sono qua No, no Tu lo mandi Tu ti mandi l'avvocato Tu lo mandi? In questura sto mamma Mi mandi l'avvocato Buono Come in questura? In questura Noi praticamente Noi praticamente Noi praticamente Noi praticamente Dal domanda È la questura che sto chiamando Cioè è seria la situazione mamma Ma perché sono in questura? Perché sei in questura adesso? Sono in questura Perché praticamente Hanno fatto Hanno preso i video Hanno preso tutte le cose che sono dette E praticamente Vi dipendio Del morale Del buon gusto Del buon giocongio Non mi capite Stai in questura dove? A Lecce mamma Perché hai venito l'avvocato? Sì E così Parliamo un po' senza che parlo io Capito? Così No No Io ho staccato la mamma Senti qua No Per il weekend Io non so se torno a Mesagna Ah ho capito Perché Ma hai sopprì Perché? No devo dire una cosa Perché Succede una cosa strana Ieri c'è stata una festa C'è stata una festa ieri Dove? Ah qua a Lecce Beh E è successa una cosa strana Tipo ho conosciuto Una ragazza più grande Mi piaceva questa qua Mi ha proposto di andare con lei In Svizzera Questa c'è soldi Ma c'è stata chi te? Perché dice che c'è soldi E beh sì Che come fa di soldi? Ma questa è una milf Che fa che? Una milf Una milf? Eh 60 anni Più o meno 60 60 60 Ma che cazzo sta dicendo? No bugia di meno 50 Ma da me Sì Se te la fai Una volta a me Ma teni i sordi Mi regala i soldi Mi dà i soldi La Ferrari La casa Ma che cazzo stai dicendo? Ma ci sta dicendo? Ma è l'occasione della mia vita L'occasione della mia vita Occasione della mia vita? Ma ci è cattato questo? Ma ci dici che ti è venuto a letto Di tempo Vi capite? Bene Occasione Ehi ma io vado in Svizzera Ciao Come in Svizzera? Sì Ma ci sta dicendo Scemo Mi ha offerto il biglietto Con l'aereo Vado Cacciuto questo Ma che cazzo stai dicendo? Vado Le MILF sono le MILF Mi dispiace per Federica Però le MILF sono le MILF Le MILF sono il futuro L'innovazione Il futuro Il futuro? Qual è il futuro? Uccidete di va a te? La MILF Sì La MILF C'è messa MILF? La MILF Quanto è santo Non stacimo Però Ti mantieni buona Vado a dire Che vuoi lo puttano? Vado a dire Che vuoi questa? E' lo puttano E' tanto Un bosco esordio No Mi è facciuto molto Ci vuol dire Che 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 vuol dire Pronto mamma Ciao Ieri Ho conosciuto Un signore Si chiama Signor Cazzella Che praticamente E' il direttore Amministrativo Di Radio Ciceri Di Acquarega del Capo E praticamente Siamo stati tutto il giorno A parlare Perché sono entrato In contatto con lui E mi ha fatto una proposta Cioè di andare a fare Lo speaker Proprio lì In questa radio Che è un progetto Comunque a salire Proprio bello Mi ha spiegato tutto E Cioè mi ha fatto un contratto Cioè io non ho potuto dire di no Mi ha detto Che mi darà Un contratto a tempo indeterminato Con 300 euro al mese Di A salire però Perché c'è un casino Di progetti Sta radio Solo che è ad Acquarega del Capo E quindi Lascio qua tutto E Mi ha detto che domani Entro domani Devo trasferirmi ad Acquarega del Capo Ho dato anche le dimissioni Qua all'università Perché lì Si tratta di un contratto A tempo Cioè devo lavorare Tutti i giorni Devo lavorare E va bene Con 300 euro Qua ce la fai Tu ad andare avanti Eh ma E voglia Poi Acquarega del Capo Voglio dire Stai due passi Pure dall'Albania Dalla Grecia Cioè in vista dell'estate È una cosa assurda Alla Ma che parla ne con papà Ma che parla ne con papà Ma che parla ne con papà Secondo te Poi vabbè Lasciao gli studi Tanto gli studi A che servono Vabbè questo Questa l'avevamo capito Pasqua Che non ci lavoriamo Senti un disastro Poi Tipo non è che ti c'è Però Pasqua io non ho il toccamento Nel culo che stai Dici Pasqua Ma è uno scherzo È uno scherzo Ehi papà Senti Stai lavorando Puoi parlare Posso parlare Mula Storcher Questi C'hanno un grande progetto In 20 anni Più o meno Ha detto che vogliono Arrivare in serie B Tu che dici Che ne pensi Ti sa più Eh Dai papà Però Devo lasciare l'università Devo lasciare l'università Tu che dici La lascio Non sa più Dai E la mamma Non l'ho chiamata ancora Che farei se al posto mio Che saggio E dai papà Dimmi Non saggio Siamo pronti Signor Tommaso Sì Salve sono l'osservatore Complimenti per il suo figlio L'ho servato bene Ha un bel piede Gommoso Buono Perché in genere C'hanno di tavola Il suo è gommoso Si slancia bene Pensiamo che in 20 anni 25 potrà arrivare In serie B Sicuramente Dai papà Per favore Oh dai Meno Io voglio giocare a calcio Io voglio giocare Io voglio giocare E che significa Mamma Devo lasciare l'università Mi danno 200 euro al mese All'inizio Però poi Saliamo sempre Mamma Mi da sempre questa cosa Per l'università Però E mamma A me piace giocare a calcio Lo sai È un mio sogno E' un mio sogno Vabbè Beh l'hai lasciato prima È veramente forte Mi ricorda molto Il cauccio Toffoli È veramente bravo Abbiamo un progetto importante La mia scuola calcio Io voglio portarlo con me Perché facciamo Le varie stage In giro per l'Europa È un ragazzo promettente Però purtroppo Capirà che non è compatibile Col mondo universitario Quindi se c'è la sua Insomma Anche la disponibilità Perché i genitori Sono importanti Per uno sportivo Se lei è d'accordo Che lasci l'università Per fare il calciatore Perché comunque Ha tutte le caratteristiche Per fare il calciatore E ma lui Lui ha fatto la scuola calcio All'ultimo anno Ha lasciato Vabbè Ma c'è un pirla Suo figlio E lui Li sta venendo di nuovo Sta E l'altro giorno Stava in forma Io l'ho visto C'è questo progetto Incredibile Perché comunque Adesso Un sacco di soldi Signora Partiamo a 200 euro A salire Lei Le posso garantire Che arriverà a 1200 euro Al mese Per il 2027 Ma non è una questione Di soldi Guardi Ma a me dispiace Il fatto Comunque lui Deve decidere Perché comunque Lui è maggiore n Beh Ma comunque Eventualmente Allo stadio Cocumula Lei viene A tifare Diamo la sciarpa La bandiera Diamo tutto Anche i pop corn La coca cola Per tifare tranquilla Insomma bene Guardi Non lo so Parli con lui E Magari Abbiamo parlato anche Con suo marito Che entusiasta L'idea E si Lasciamo fare Del mondo Signora Sia tranquilla Suo figlio Un bidone A calcio Posso fiare tranquillamente Tranquilla Non giocherò mai A calcio La prendo La laurea La prendo Managgia Managgia Ciao mamma Senti una cosa Ti devo parlare Un attimo Invitando A fare L'addetto stampa Di un nuovo movimento Che Si chiamerà Il popolo destrissimo È molto vicino A Silvio Berlusconi E sono 200 euro al mese Che penso Mi basti Tu sei pazzo Si può fare Sappiamo come farlo Euro più se Vado Faccio un po' Il cameriere Vediamo Faccio il vocalista In discoteca Vediamo Ma che stai dicendo Ma che sei pazzo No mamma Però è una grande possibilità Perché fai tipo Un po' di tempo Così poi magari Entri nelle grazie di Berlusconi Non sei mai Mamma Di Silvio stiamo parlando E vi consente di organizzare a casa Festini Spottanti Bunga Bunga Non ci posso credere A quello che stai dicendo Mamma Allora Mi hanno visto Allora ascoltami Davide Davide sta cosa per telefono Non si può fare Noi stiamo scendendo Per andare in paletta Quando torni a casa Mi parliamo No Non mi dire così mamma Perché Dimmi Si 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 Stanno aspettando Stanno aspettando Stanno aspettando adesso Mamma Ma come non mi puoi dare una risposta Davide vuoi fare quello che cazzo vuoi Fa quello che cazzo vuoi Te ne vai Te ne vai Vattene a Milano Vai Lavoro proprio con Silvio E per le elezioni Il popolo destrissimo Lo faremo presto Si 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 Vai Lavora con le letterine Di Berlusconi Vai In quel mondo di merda Magari Mamma Se comincio a conoscere Rubi Cose Ti immagini Si Si Ti immagini Eh magari cose Bunga bunga Davide Mi sta facendo venire La sudata Ma che cazzo Stai dicendo E tanta fighe E tanta gnocca Mamma Non essere Non mi gridare Mamma Ma E la verità E la verità Mamma È importante Per me Lo sai È importante Fare politica Sono stato Devi dare una risposta In questo momento E papà Non ne vuoi parlare Scusami Mamma Dovrei decidere Però ti dico È importante per me La politica E con Silvio C'è C'è una strada spianata Politica Consiglio regionale Donne Bunga bunga Di un bel troione Che vi possa Far sentire Realizzare Che vi consente Di organizzare A casa Festini O tanti Bunga bunga Nonne Mamma Perché mi dici Ste cose Fiacchia No 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 Allora Io devo scendere In palestra Non mi interessa Non mi riguarda Non voglio sapere niente La nostra posizione È questa Ma Ma Che stai dicendo Ma Diglielo A contatto con Silvio Il popolo destrissimo Il popolo destrissimo Un sacco di soldi Sta mettendo Un sacco di donne Un papà Mi sa bene L'infarto Velocemente No mamma Come un infarto Ma Ma tu sei Un senatore accademico Che stai dicendo Ma hai presente A che livello Si arriva mamma Di fianco a Berlusconi Soldi Bunga bunga A che livello Si arriva A livello di merda Ma perché mi sta facendo Questa telefonata Alle 5 Sappiamo come farlo Perché Dimmi No mamma Ma perché ti stai arriviando Io te lo sto comunicando subito Allora La mia risposta è no Quella di papà È no Mamma 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 È tutto uno scherzo Mamma È tutto uno scherzo È uno scherzo Mamma È uno scherzo Mi laure Non ti preoccupare Mi laure in due anni Mamma Ti posso disturbare Di due minuti Devo parlarti Di una cosa importante Sì Allora In questi giorni Siccome abbiamo fatto Delle serate Con Andrea No Abbiamo fatto una serata In un locale A Lecce E c'è stato Uno che Mi ha notato E mi ha fatto Una proposta Di lavoro A Ibiza No Giovanni Aspetta che ti spiego In pratica È un investimento iniziale Di circa 500 euro A Ibiza E poi Giriamo Tutta l'isola Mi fa suonare ovunque Tutte queste cose qua Aurora E Giovanni Giovanni Allora divertiti qua E fa quello che devi fare qua Sì però Volevo dirti che sto lasciando L'università Perché ho accettato questo lavoro E quindi Dovrei partire tra poco Ma mi stai prendendo Ma mi stai prendendo in giro Giovanni No No non ti sto prendendo in giro Ma Te ne volevo parlare appunto Perché comunque Non so veramente come dirtelo Dovevo dirtelo in qualche modo È il mio sogno È sempre quello che ho sognato E quindi c'è questa possibilità Ma Giovanni Se stai scherzando Dimmelo Perché Perché mo veramente No non sto scherzando No veramente Tu che ne pensi Voglio sapere No un po' Io che cosa ti dico Sai come la penso Giovanni Che stai andando A buttarti proprio Nella Che bevuto Che hai fatto Cosa hai fatto Voglio mixare la vita Voglio fare il DJ Mamma Mamma Vedi che era uno scherzo Giovanni Mamma sei in diretta Eh ma la diretta Sa come ne la faccio La diretta Pronto? Eh papà Francesco sono No volevo dirti Vabbè come stai Tutto vabbè C'è successo No è che Vabbè ieri sono stato Vabbè Sai che ho fatto l'esame Quindi sono stato in giro Questa settimana Vabbè A lei ci stanno Girando un film Ho incontrato Il produttore C'è comunque Tutto lo staff Tecnico Che sta organizzando il film E c'è il produttore Che è danese Sì è danese Solo che Praticamente questo qui È quello che gestisce Tutta l'organizzazione Delle pubblicità Della Vigor Solo che quindi I boschi Sai Quindi sparano gli orsi E poi vedono Che colore Queste cose strane Il fatto sta che Mi hanno preso C'è Mi hanno proposto Di andare Di andare fuori All'Italia A fare queste pubblicità Come modello Perché sono biondo Occhio azzurri Fuori dove? Dove? Fuori dove? Fuori In Irlanda Finlandia Penso queste parti qua Finlandia? Sì Ma lei lo sta dicendo Sì Però l'unica questione È che ovviamente Questa cosa Compromette il mio percorso universitario Nel senso che Devo Devo lasciare gli studi In realtà A me non andava più Di studiare Quindi Cioè Amen Io vado Siamo l'assidotto E vai in Finlandia Da Cile Esatto È un modello Per le pubblicità Della Vigor No no papà Ma pensiamo anche Per un periodo di prova No ma ci sta C'è un maleccio Ormai Ciò che è fatto È fatto È tutto Grazie Papà Sono incazzatissimo Perché? Quel pezzo di merda È mio gemello Ci provava la ragazza mia No ma non è possibile È diventato Fottuto di testa No ma non è possibile La è scherza No no ci stiamo ritirando Sta qua Papà Non è vero Ha fatto tutto la Martina Non è vero Dice che la Martina Lo guarda Questo pazzo Come devo fare Poi è successo un casino Non sai che è successo Le ho tirato la sedia in testa Nel bar di economia Ci hanno sospeso Mi hanno cacciato la facoltà Mi hanno disconosciuto La rappresentante Ho perso 400 voti Ma sei impazzito Sì non mi ha impazzito L'ha fatto arrabbiare Non si sa comportare Colpa sua Papà non è vero È colpa di Giulio Che è un pazzo È violento Mi hanno visto tutti i professori Mi stanno chiamando il rettore a casa Papà devo andare sotto i ponti Colpa di Andrea Vuole tutte le fighe Ma che come sei pazzo Ma che caccio Gli ho fatto male pure Ma lo sto portando Però io ho ragione È uno stronzo Ma come l'hai fatto male Che l'hai fatto Papà lo stavo spuntando In realtà Papà sì Sono pazzo Mi impazzisco Sono rovinato Sotto i ponti Sotto i ponti E' scemo Ma basta Sto scherzando È uno scherzo È uno scherzo Di più E conseguentemente Quale facoltà Celebrare qui Sulla nostra pagina Come la più sguagliusa La più paccia E la più lesionata Dell'Unitalento Se volete votare Per giurisprudenza Cliccate sul pollice in su Se invece volete premiare La facoltà di Economia Cliccate sul cuore Se invece volete votare La facoltà di Sociologia Cliccate sulla faccina divertita Se volete votare La facoltà di Scienze Politiche Cliccate sulla faccina stupita Se volete premiare La facoltà di Scienze E Tecnologie per l'Ambiente Cliccate sulla faccina triste Infine Se pensate sia meritevole Di Vittoria La facoltà di Ingegneria Cliccate sulla faccina arrabbiata Gli studenti Della facoltà vincitrice Che saranno presenti Al ballo di fine anno Riceveranno un premio A sorpresa Non lo posso dire A Riolesi Votate